Prezzi alti e rifornimenti in crisi e a rischio lo shopping di Natale, ConfCommercio ha già lanciato l'allarme. Il segretario della ConfCommercio di Pesaro Urbino, Davide Ipaso, la vede grigia. Lo shopping di Natale quest'anno sarà come quello degli altri anni? Domanda alla quale è difficile trovare una risposta dopo due anni di pandemia da Covid-19, con la quale gli italiani si sono abituati ormai a convivere, ci si deve aspettare di tutto. Questo significa abituarsi anche al fatto che le persone potrebbero acquistare meno del solito, in vista dell'aumento dei prezzi della merce, anche se non avvenuto in tutti i settori, dovuto alla scarsità di materie prime necessarie per produrla. La fiammata inflattiva di dicembre, spiega la ConfCommercio, può determinare una drastica riduzione dei consumi, fino a 5,3 miliardi di euro, con ripercussioni sul fatturato delle imprese commerciali durante le festività. Noi abbiamo una grossa preoccupazione, anche perché ciò che noi ci prospettiamo per questo Natale sarà molto difficoltoso. Abbiamo superato la pandemia, poi abbiamo superato le restrizioni, abbiamo superato il lockdown. Nel momento in cui potevamo recuperare un attimino i momenti di carestia, ci troviamo a sopportare un'altra grossa crisi, che non è fiscale, è una crisi economica, una crisi dovuta alla pandemia, perché tutte le materie prime un'altra potenza economica le ha comprate, e adesso ce le sta rivendendo al triplo del costo. Ecco perché sono aumentati tutti i costi in questo momento. A questo punto noi ci troviamo a dover rifare, rimboccarci le maniche. Stiamo parlando di problematiche in mani in questo momento. Quindi io spero, mi auguro di riuscire a far fronte anche a questa grossa crisi. E mi auguro che tutte le persone che ci ascoltano decidano per una volta di non comprare su Amazon, di non dare i soldi a Bezos, ma di andare nei piccoli negozi per cercare di salvare il salvabile, perché se depauperiamo i centri storici, depauperiamo la nostra forza lavoro, e sappiamo quanto la colonna dorsale dell'Italia, oltre 4 milioni di occupati sono nella piccola e micro impresa, e rischiamo di andare in default. Quindi io lancio questo appello, sono nessuno per dirlo, ma io questo Natale comprerò dai miei negozianti.